Buongiorno, è una giornata molto importante questa, una giornata nella quale si è fatto un bilancio del lavoro svolto in questi ultimi anni, ma anche guardando molto al futuro. È stata per noi un'opportunità importante per poter condividere con tutti i partecipanti il grande lavoro che è stato sfatto da Regione Liguria e da ASLE 4 nell'abbattimento dei tempi d'attesa, perché quando si parla di centralità del paziente, quando si parla di sanità a chilometro zero, non si può non considerare una priorità l'abbattimento dei tempi d'attesa. Bene, abbiamo potuto davvero dimostrare il grande lavoro svolto dall'interazienda, dai nostri professionisti, il sistema che è stato attivato per far sì che oggi in ASLE 4 le priorità per le prestazioni ambulatoriali, sia B che D che P, sono ampiamente al di sopra del 97,8%, quando abbiamo un livello di garanzia previsto dal Ministero del 90%. Come Direttore Generale posso esprimere davvero la mia grande soddisfazione, ringraziare tutti i professionisti dell'azienda e della Regione per questa grande opportunità che ci ha dato, perché è grazie al forte mandato e all'obiettivo che ci ha segnato l'Assessore Viale all'inizio della nostra avventura come Direttori Generali di abbattere i tempi d'attesa che oggi possiamo condividere con entusiasmo questi risultati. Grazie.